Sono Sara Mario e sono una docente di pianoforte nella scuola media interinzio musicale nell'istituto comprensivo Giornone di Tolve in provincia di Potenza e sono una docente certificata nel metodo del Cross. In questo video saranno mostrati dei piccoli estratti di un breve percorso formativo attivato a partire dalla percezione corporea nel macrosfazio sino alla ricerca sonora e degli elementi sintattico-strutturali espressivi, estetici, costitutivi della musica, della pratica strumentale. Camminiamo con la musica. Quando sento qualcosa di diverso, mi fermo. Ritorno inconosciuto, cammino. Sento qualcosa di diverso, mi fermo. E riconosci. Ritorno inconosciuto, cammino. Ritorno inconociuto, camminare. Ritorno inconociuto, camminare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.